Buongiorno, benvenuto. Avrei bisogno di una bacchetta. Una bacchetta magica. Questa è molto carina, molto richiesta. Bacchettina magica. Carina sì, però non ce l'ha un po' più grande? Un po' più grande. L'avevo messa un po' più grande. Spettinato, scusi. Un po' più grande. Ah, che dici, è abbastanza grande. Forse un po' troppo. Un po' troppo.